buongiorno maria teresa gianni è una di quelle poetesse che lavorano in silenzio a partate senza fare chiasso rumore proclamare di aver vinto premi a destra e a sinistra tant'è che è perfino difficile trovare una sua nota curriculare io fortunatamente ho molti suoi libri e la traggo da uno di questi sogno del mondo solo per dire che è nata nel 43 a uboldo in provincia di varese dove vive ha insegnato inglese nella scuola media ha pubblicato e via dicendo poi elenca qualche libro io ne possiedo svariati nel profondo alto edito dall'adolphe alle radici del principio sempre edito dall'adolphe e sempre edito dall'adolphe prima della luce questa forza di pace edito da leoni e voglio parlare oggi di l'integrità del mondo edito da puntatti o questi libri perché me li manda lei come talvolta si usa fare fra addetti ai lavori è una poesia di pensiero vertiginosamente proiettata all'indagine della metafisica un endecasillabo estremamente elegante riesce sempre a centrare un obiettivo naturalmente fantastico pescato nel cuore del creato e del creatore l'integrità del mondo non fa eccezione vi leggo un paio di testi questo è un libro è più recente è uscito nel 22 per l'appunto una delle prime parole si intitola in morte e segue in tre momenti io vi leggo solo il primo la materia rivolge un tu non si sa se sia la persona scomparso oppure dio dove tu sia non è dato sapere se fossi te vorrei essere libera nell'etere un pensare palese e brezza pura i sensi e sottile tanto da penetrare rocce interdette infiltrando nell'aspro grigiore ed anime spente addolcendo nel gelo vibrazioni di canto su a dente ed esplorando negli arabeschi di quarzo e d'argento le pomici e lo zolfo dei primitivi ribollimenti dell'interiore attingervi il filo rosso di fuoco e di sangue orienta l'universo dai sepolcri di polveri agli altari di luce e come in vita così nei labirinti della morte far bene guidare la luce è una dominante perché è l'obiettivo della ricerca poetica di maria teresa giani chiudo con il destino finale delle parole comuni o preziose le parole domestiche o profetiche nei salmi della chiesa asservite ai cimenti sanguinosi della storia o sublimate nei letterari tormenti di amore e morte torneranno infine al loro primo afflato di moti d'anima che trascesi in sguardi screzzino i spazi di fluidi messaggi onde musicali come culle di senso e melodia di toni a danzare nella luce del mare dello spirito maria teresa giani l'integrità del mondo contatti 2022 grazie e arrivederci grazie a tutti